Tornando ufficialmente il Racing Podcast e ricominciamo dalla MotoGP che ha riaperto i battenti con il Gran Premio del Qatar e subito momento goduria, momento trionfo, momento 5 stelle extra lusso per quanto mi riguarda perché uno dei miei pupilli della MotoGP ovvero il bestia di Rimini, Nea Bastianini ha vinto la gara d'esordio nel Mondiale 2022 in una gara incredibile di rimonta davanti a Brett Binder e a Pulisio e Spargarò in un campionato MotoGP che si appresta a essere tanto equilibrato ma non pensavo onestamente fino a questo punto con un team che è un'altra gara. Di fatto che rientra in MotoGP al di fatto nuovo esordio con la Ducati, prima Grisini era un fornitore indipendente di Aprilia a vincere davanti appunto fornitori ufficiali come Suzuki, Aprilia, la Honda Ufficiale, insomma una grande sorpresa, una grande gioia e la prima volta in assoluto per il pilota di Rimini che dunque conferma di essere ancora una volta uno dei talenti più importanti che abbiamo nel nostro carniere, magari meno chiacchierato di altri ma comunque tanto costante e tanto forte perché Bastianini ricordiamo non è l'ultimo arrivato, è stato un campione mondiale di Moto2 nel 2020, la stagione corta a causa Covid e già l'anno scorso l'esordio di MotoGP ha fatto tanto bene con due podi con una Vintia Racing molto arretrata rispetto magari ad altre Ducati, vedi per esempio le stesse ufficiali e il team Pramac. Ducati che stecca l'appello va detto con le moto ufficiali ma si riscatta la stragrande con Elena Bastianini che ha la meglio veramente di contender molto più quotati evidentemente sulla carta che sono le due onde ufficiali che hanno fatto tutto sommato bene ma poi lo vedremo e anche di questa KTM che è cresciuta tanto nonché di Suzuki che è la moto che rispetto all'anno scorso è migliorata tanto tanto di più. Bastianini ha costruito una gara molto solida partiva già al secondo posto in qualificazione è poi rimasto nelle posizioni che contavano quindi top 5 ma poi sfruttando un errore della Honda che ha messo una gomma morbida davanti quindi di fatto ha perso diciamo prestazione subito e ovviamente una scelta di gomma e setup azzeccata al contesto del Qatar la Ducati privata Elena Bastianini fa una grande rimonta e alla fine ha meno tre giri dalla bandiera a scacchi c'è l'errore diciamo decisivo che consente evidentemente a Polizio Spargerò di perdere tempo e a Elena Bastianini di fatto di infilarlo in staccata alla prima curva. Polizio Spargerò poi perderà due posizioni e finirà terzo ma Bastianini aveva già preso a largo e salto alla compagnia e dunque prima vittoria in MotoGP per appunto il best di Rimini che aveva già fatto due podi l'anno scorso a Misano evidentemente nelle due gare che l'avevano visto protagonista con il team Avintia è una grande consacrazione questa di un talento perché Bastianini di fatto questo è nel moto mondiale. Ripeto meno cacchierato di altri perché si parlava tanto di Luca Marini per ovvi motivi di Bagnaia che comunque è ancora uno dei pretendenti al titolo e ripeto non è sufficiente la gara di oggi per pure giudizi affrettati ovviamente però evidentemente Bastianini ha sempre fatto il suo ha sempre fatto delle prestazioni interessanti e ha sempre lavorato tanto ed è arrivato in questo team il nuovo team Gresini che appunto torna con Ducati che ha investito in lui e Fabio di Gian Antonio probabilmente dalla Moto2 e evidentemente ha sorpreso tutti me compreso ma regalandomi veramente una gioia incredibile perché non solo sono un tifoso della Ducati ma evidentemente tifo anche per qualche pilota in particolare e tra questi c'è il best di Rimini di Bastianini che di fatto va a giudicarsi la prima vittoria in carriera in MotoGP e per lui suona a Fratelli d'Italia il nostro inno nazionale o meglio il canto degli italiani che peraltro suonerà anche in Moto2 e in Moto3. Seconda posizione appunto per Brad Binder e terzo per Polis e Spargaro cosa abbiamo visto da questa gara della MotoGP che sicuramente c'è tanto equilibrio hanno deluso i campioni del mondo e i vice campioni del mondo in carica perché Quartararo è finito soltanto nonno Bagnana addirittura fuori per un incidente con Martin è evidente che Quartararo e Bagnana sono i grandi delusi di questa gara della MotoGP ma è altrettanto vero che ci sono tantissime altre contender pronti ad approfittare di zeri pesanti che ci saranno in questo campionato che peraltro sarà lunghissimo Parliamo per la MotoGP di 21 gare abbiamo un'Aprilia che fa un grandioso quarto posto con Alec e Spargaro abbiamo una onda ufficiale che è tornata dopo il disastro degli ultimi due anni con un terzo posto di Polis e Spargaro che la gara l'avrebbe anche potuta vincere ma appunto ha perso man mano terreno per via di una scelta di gomma sbagliata e poi Bastiani va già superato di fatto all'inizio del terzo giro Dopodiché Polis e Spargaro va lungo alla prima curva e Brad Binder finisce secondo per un altro pilota che è da tenere d'occhio veramente con tanta tanta attenzione perché la KTM ufficiale abbiamo visto che è una moto cresciuta tanto soprattutto con il sudafricano Miguel Oliveira invece ha fatto molta più fatica ma gli ufficiali stanno veramente tornando e peccato che sia mancata veramente la Ducati che doveva essere probabilmente in contumacia di questa Yamaha disastrosa la contenderà al titolo cosa che per il momento non è va detto è soltanto una gara però qualche cosa si è già visto Le altre posizioni abbiamo visto una onda ufficiale ripetevamo sul pezzo con un Mark Marquez che non aveva comunque il passo per vincerla e si accontenta diciamo di una quinta posizione e vedremo quanto potrà pesare nell'economia del mondiale questa quinta posizione La Suzuki si risolleva dopo aver potenziato il motore e mantenuto le caratteristiche di ciclistica top che avevamo visto negli ultimi anni tranne probabilmente il 2021 con un Honmir sesto ma comunque vicino al podio e appena dietro il suo compagno di squadra Alex Rins Segno che appunto come dicevamo la vittoria di Bastenini è veramente incredibile perché parliamo di un team privato nelle prime otto posizioni di fatto ci sono tutti ufficiali perché poi abbiamo anche Quartarro nella nonna posizione E gli altri sono di fatto o team privati come Enea Bastenini che corre col team Gresini o semi privati come Johan Zarco che batte il suo canazionale diciamo Fabio Quartarro a condizioni invertite l'anno scorso Zarco e Quartarro erano primo e secondo del mondiale adesso sono ottava e noni E chiude la top 10 Takahaki Nagami con la terza onda di fatto appunto abbiamo già capito che la squadra giapponese è quella più migliorata evidentemente con questa prima taglia del Qatar ed è abbastanza strano visto che di solito tolto Marquez l'onda ha sempre fatto fatica nella pista araba del Qatar Chi manca in questa classifica? Manca il Polman Orge Martin, manca evidentemente Francesco Bagnaia che erano tanto accreditati di far bene, manca anche l'altra Ducati Ufficiale ovvero quella di Jack Miller che evidentemente non ci ha capito niente di questo circuito, intendo la Ducati Ufficiale Bagnaia partiva indietro già in qualificazione, era a metà schieramento, Miller invece partiva a quarto ma poi è andato di fatto a fare una gara al Gambero e poi è di fatto uscito dalla gara per problemi tecnici e un ritiro Bagnaia invece stende Martin, errore di Bagnaia, Martin appunto anche lui finisce per le terre e di fatto i due devono abdicare alla gara di oggi Va detto che però Martin era sceso dalla pole position e Bagnaia era un attimo attestato in queste posizioni di rincalzo Segno che evidentemente su questa conformazione di circuito la Ducati Vecchia perché Bastianini corre con la Ducati Vecchia è andata meglio dalla Ducati 2022 che infatti ha già manifestato qualche piccolo problema Tanto è vero che per esempio in questa gara sia Bagnaia che Miller hanno montato il motore 2021 sulla moto nuova e questo c'è sicuramente da far riflettere Ricordo che la Ducati Ufficiale parte con i crismi comunque di chi vuole conquistare il mondiale e vedremo se riuscirà a farcela oppure dovrà abdicare a un altro campione del mondo Magari diverso dallo scorso anno perché è quarta la row e adesso ne parliamo è una delle grandi delusioni di questa gara della MotoGP Perché evidentemente ok che la Yamaha non è la moto migliore dell'otto e non ci andiamo neanche vicini ma comunque prendere le piste dalle altre moto che comunque hanno evidenziato miglioramenti importanti Honda e Suzuki su tutti e anche Aprilia con l'Ace Spargaro che a momenti prendeva il podio la dice lunga su quanto questa moto sia involuta rispetto allo scorso anno E come l'anno scorso il francese guidasse sopra i problemi della casa di 3D Apason come evidentemente ciclistica Il problema della moto di quest'anno pare a detta di quarta la row sia di fatto prevalentemente il motore ma evidentemente anche nel telaio e nell'aerodinamica manca qualcosa Altrimenti avremmo una Yamaha sicuramente più competitiva L'altra Yamaha ufficiale è quella di Franco Morbidelli che fa una gara anonima a undicesimo al traguardo il pilota italo-brasiliano Comunque davanti a piloti che comunque potevano fare e sicuramente faranno di più come Maverick Vignales che arriva in dodicesima posizione Lui che comunque sta migliorando pian piano sempre di più l'attività a questa Aprilia Concluendo la zona punti Luca Marini con la Ducati del nuovo team di Valentino Rossi VR46 che al momento vince il premio per la livella più bella Quattordicesimo Andrea Dovizioso che appunto rientra a tempo pieno in MotoGP con la Yamaha cliente del team RNF E ultimo a punti Remy Gorner che di fatto alla prima gara in MotoGP batte il suo compagno di squadra Raul Fernandes del team KTM Tech 3 E finisce quindicesimo a punti Va detto che appunto dalla quindicesima posizione in giù ci sono tutti gli esordienti che sono arrivati al traguardo Era comprensibile che tutti facessero fatica fuori e sono arrivati dai punti appunto Fernandes, Darren Bender e anche Fabio Di Giananzaro Tutti gli altri ritirati per una gara di MotoGP che comunque ci lascia appunto con tantissimo equilibrio Io sono contento che abbia vinto Nea Bassanini ma attenzione Nea Bassanini non dovete prendere in considerazione per il campionato del mondo Anche perché ricordiamo la Ducati 2021 è andata molto bene sulla pista diciamo del Qatar E storicamente la Ducati va bene sulla pista del Qatar In altre piste magari più complicate vedi per esempio Austin Texas, vedi per esempio Argentina ma per esempio anche Le Mans La Ducati potrebbe fare molta fatica Vincerà il Mondiale probabilmente la moto che sarà più completa e di conseguenza quella che porterà più aggiornamenti nelle gare che conteranno E sicuramente l'occhio va tenuto sulla Honda Ufficiale, sulla KTM e magari sulla Suzuki Io indico queste tre Se poi la Ducati Ufficiale ovviamente si inserisce nel mezzo tanto meglio Il pannaggio evidentemente del Mondiale è tra questi quattro team Probabilmente io mi auguro con tre, quattro piloti E poi vedremo da qui alla gara numero 21 Certo, vedere un Gran Premio del Qatar e nessuna Ducati Ufficiale, competitiva neanche per sbaglio Mi fa un po' arrabbiare da tifuso della Ducati da un'altra prospettiva Certo però che la vittoria di Daniel Bastenini è qualcosa di sorprendente Considerato che appunto è un semi esordiente Perché con oggi Bastenini è stato il suo secondo anno in modo GP Corre in un team che è di fatto all'esordio in modo GP Come appunto fornitore ufficiale Vedi per esempio appunto il team Grasini Che appunto porta anche la mamma di Fausto E di conseguenza è una vittoria definitiva anche per questo È un Mondiale veramente interessante Bastenini però, attenzione, potrà lottare comunque per qualche gara col podio Vedi per esempio le gare italiane di Mugello e Misano Magari qualche top 5 Ma i partiti del pro mondiale sono altri Ducati ufficiali su tutti Speriamo con Bagnaia Io direi la KTM Con Brad Binder Perché Olivera quest'anno ha fatto fatica In questa gara ovviamente meglio E attenzione a entrambe le onde ufficiali Che possono essere veramente la mina vagante E attenzione anche a quel Juan Mir Che comunque con la Suzuki migliorata E Mir che ha la caratteristica di essere più impazzato e più convincente In un campionato con tanto equilibrio E tanti punti da assegnare Può essere una importante cartina di tornasole Così come può essere un'importante cartina di tornasole Anche Celestino Vietti per quanto riguarda la Moto2 E passiamo alle categorie propedeutiche Perché all'esordio del team VR46 Nella categoria intermedia Vince ancora una volta l'Italia E risuona il canto degli italiani Stavolta per Celestino Vietti Che dopo l'anno di apprendistato l'anno scorso In Moto2 Fa una grandiosa gara E di fatto scherza agli avversari Perché quello di Celestino Vietti È di fatto un vero e proprio dominio Per il numero 13 È la prima vittoria evidentemente in carriera In Moto2 E anche per lui Dunque è una buonissima partenza Un buon viattico Per un campionato del mondo Moto2 Che comunque potrebbe vederlo tra i protagonisti Perché comunque lo Sky Racing Team Ha perso di fatto Marco Bezzecchi Uno dei protagonisti dello scorso anno E punta tutto su Celestino Vietti Per provare a vincere il titolo del mondo Va detto che in Moto2 Ci sono altri contender Molto molto aggueriti Anche se oggi evidentemente Non ce n'era per nessuno E parliamo anche di Aaron Canet Seconda posizione per il pilota spagnolo Che ha cambiato team Adesso corre per il team Pons HP40 Ma il vero pretendente al mondiale Secondo me è quest'uomo Sam Lowe's Che è evidentemente costante Ancora una volta In questa categoria Con la moto migliore A mio modo di vedere Che è quella del team Mark VDS Fa evidentemente un podio Molto importante Perché anche per la moto 2 Saranno 21 gare E' mancato il Timaio Che è l'altro grande contender Del mondiale Forse allo stesso livello Il team Mark VDS Ma probabilmente vedremo Perché Augusto Fernandez Con appunto il Timaio Fa quarto Ma il compagno di squadra Pedro Acosta Fa soltanto dodicesimo E questo è il risultato Più sorprendente della moto 2 Il campione mondiale Della moto 3 In carica Che di fatto Ha scherzato gli avversari Nei test Si era trovato bene Anche nei test di Portimao Qui ha fatto fatica In qualificazione Ha perso Un po' di lucidità in gara E di fatto fa una gara anonima A differenza magari Dell'altro compagno Di squadra di Sam Laws Ovvero Tony Arbolino Che porta il team Mark VDS A fare terzo e quinto E questo mi fa pensare Che per il momento Il team Mark VDS Abbia azzeccato La partenza più corretta Rispetto al Timaio Che comunque sulla carta E' superiore Al team Mark VDS Attenzione però Perché in un mondiale Non si è mai dato Nulla per scontato Qualche outsider Per il campionato del mondo Potrebbe essere Ayugura Che ha fatto una grande gara E si è adattato molto bene Il piatto giapponese A questa Moto2 Era in lotta addirittura Per il podio Poi un errore Lo relega Di fatto nelle retrovie Ma comunque c'è da festeggiare Celestino Vietti Che lui invece si Può diciamo Riprendere il posto Del contender italiano Per il titolo del mondo Moto2 Il titolo Moto2 Che peraltro manca Dalla vittoria Del 2018 Con Franco Morbidelli Gli altri italiani Per quanto riguarda Invece Moto2 I primi Due sono a punte Nelle prime cinque posizioni L'ultimo a punti È Romano Fenati Con la speed up Del team Bosco Scuro Gara di rimonta Per Romano Fenati Tutti gli altri Di fatto fuori dai punti A partire dal veterano Simone Corsi Da Alessandro Zaccone Che era un esordiente Al esordiente Nicolò Antonelli Che veniva Dalla Moto3 E di fatto Conclude la gara In ultima posizione Il team VR46 In questo caso Fa testa coda Ma evidentemente Non c'è molto Da aspettarsi In questo contesto Vince l'Italia Anche in Moto3 O meglio Vince la VR46 Academy Anche in Moto3 Perché Andrea Migno Batte In volata Sergio Garzia E va ad aggiudicarsi La seconda vittoria In carriera Su 133 gare Disputate Uno dei grandi esperti Della categoria Andrea Migno Ha ragione Gli avversari Sulla pista del Qatar In una gara Che in realtà Va divisa in due parti Perché la gara Della Moto3 Fino a 8 giri Dalla fine Aveva un unico Un solo vincitore Ovvero Ayumo Sasaki Su Usquarna Poi però Il giapponese Ha un problema tecnico Rischia di perdere La moto Di fatto da solo Sasaki era in vantaggio Con praticamente Due secondi di vantaggio Di fatto appunto Perde la moto Sbatte sulla carriera La carriera si apre E di fatto Il giapponese È costretto al ritiro Ne viene fuori Di conseguenza Una seconda gara Dagli 8 giri Dalla fine in giù E trionfa Andrea Migno Sulla onda Del team Snipers Seconda vittoria In carriera Per il pilota Di Saludecio Di fatto Anche lui Più un piazzato Che un vincente Ma in Moto3 Bisogna essere bravi A sfruttare le mischie E stavolta La rivincita di Andrea Migno Su Sergio Garcia Su Gas Gas Lui invece È uno dei protagonisti Che ci aspettiamo In questo mondiale Moto3 E di conseguenza Un podio È molto più che importante Terza posizione Per un giapponese Kaito Toba Su KTM Del team Chip Kaito Toba Peraltro In Qatar Ci ha vinto Una sola volta Nel 2019 Unica vittoria In carriera Anche qui Mancano tanti Pretendenti al mondiale E qui Dobbiamo analizzare La gara dei tre Dennis Foggia Finisce settimo Ma appunto anche lui Così come Isang Guevara E Tatsuki Suzuki Sono stati penalizzati Per comportamento Irresponsabile In qualificazione Di conseguenza Hanno dovuto Di fatto Partire in fondo Hanno effettuato Dei long carper Di penalità E poi hanno rimontato Dennis Foggia È finito In settima posizione Di fatto Gli altri però Sono finiti Molto molto indietro Addirittura Suzuki Si è dovuto Ritirare Per gli altri Non c'è stato niente da fare Però il settimo posto Di Foggia È sicuramente Tanto significativo Perché appunto È arrivato in condizioni Molto proibitive Perché appunto Il pilota romano Partiva in fondo Altri risultati significativi Italiano a zona punta In questo caso Ne abbiamo due Riccardo Rossi E Stefano Nepa Per un'esperienza importante Per questi piloti Che comunque sono molto giovani E mi auguro che si faranno Gli altri italiani Sono fuori dai punti In particolare Qui vediamo Marteo Bertelle Ed Elia Bartolini Appunto 17esimo E 17esimo Con il team QJ Motor Primi punti Nella storia Invece Per CF Moto Che è una Di fatto Sottomarca di KTM Ma che batte Bandiera cinese C'era anche Anna Carrasco In questa gara Ventesima La campionessa Del mondo Di Supersport Recendo Nel 2018 E tornata In Moto3 E di fatto Fa una discreta prestazione In ventesima posizione Questo era il recent podcast Complessivo di MotoGP Moto2 E Moto3 Per quanto riguarda Il Gran Premio Del Qatar Vi lascio ancora una volta Con questa classifica Che è importantissima Per me In quanto tifoso Ducati E soprattutto Anche di Nea Bassettini Con la vittoria Del Best di Rimini Fatemi sapere Cosa ne pensate Evidentemente In un commento Qui sotto Ci vediamo Evidentemente Domenica prossima Ma non per parlare Evidentemente Di una gara Che si è svolta Ma per presentare Il campionato Di Formula 1 Del 2022 A una settimana Dall'inizio Del GP del Bahrain Il saluto Da parte di Matthew Thorgard Ci vediamo Al prossimo video